Il portiere del Chieti, Simone Mercorelli, nel pomeriggio è intervenuto nella consueta conferenza stampa di metà settimana ed ha fatto il punto della situazione della sua squadra prima in classifica dopo cinque giornate. Domenica prossima arriva l'Isernia, squadra che attualmente si trova nella parte medio-bassa della classifica, dodicesimo, con sette punti. Personalmente la classifica l'ho iniziato a vedere da gennaio, anzi da dicembre. Quando si fa un primo summit, si tirano le prime linee e si cerca di capire quale può essere effettivamente l'obiettivo finale. Molte squadre, sappiamo che all'inizio costruiscono squadroni e poi magari si ritrovano in una situazione precaria a dicembre e devono mettere mano oppure decidono semplicemente di dire che quest'anno è andata, pensiamo al prossimo anno. Mi viene per esempio l'esempio del Barletta dell'anno scorso che è squadrone e poi alla fine retrocessa. Quindi dodicesimo in classifica, terzo, primo, secondo, conta poco perché attualmente tutte le partite sono importanti. I tre punti, soprattutto nella nostra condizione, che siamo magari partiti un po' in ritardo e tutto, valgono il doppio. Io mi rifaccio sempre alla partita di Ancona. La partita di Ancona, tu vai a vincere una partita di Ancona 1-0, non hai ottenuto solo tre punti, perché sono tre punti importanti e fondamentali per il morale, per quello che era in quel momento la prestazione fisica che potevamo dare e potevamo ottenere. Quindi sì, arriva un'isernia che sicuramente non verrà qui a lasciarci i punti. Rispondendo infine alla domanda su come vive la staffetta tra i pali con Simone Servalli, il portiere Neroverde ha affermato che... Io penso che a Chieti, non voglio tirarmela però, diciamo ci sono due portieri, oltre a me io parlo di Servalli, che è un under ma ha già esperienza in questa categoria e è un portiere affidabile, molto affidabile. Quindi diciamo che sì, ti permette a livello solo numerico e di under di cambiare, ma la sostanza diciamo è quella. Quindi io personalmente, come ogni giocatore, vorrei poter giocare tutte le partite. Ci sono 34 partite e ne vorrei poter fare 35. Però quello che è importante in un gruppo quando si cerca di fare qualcosa di grande, ossia cercare di vincere il campionato, è cercare di mettere da parte il singolo e pensare all'economia di squadra.